I giovani per il recupero del loro passato. È il nome del progetto presentato dall'Associazione Pitagora di Santa Maria del Cedro al Ministero delle Politiche Giovanili che punta al recupero e alla valorizzazione dei beni storici. Nello specifico il Parco archeologico di Laos, la zona del Castello di San Michele e l'ex carcere dell'impresa. Ci siamo impegnati, fa sapere il Sindaco di Santa Maria del Cedro, Giuseppe Aulicino, ad offrire le tre aree in comodato d'uso all'Associazione Pitagora nel caso in cui dovessimo ottenere il finanziamento richiesto di 110.000 euro. Si tratta infatti di un'idea molto importante per il nostro territorio che se dovesse andare in porto garantirebbe ai giovani una possibilità per aumentare le loro occasioni di impiego oltre all'aggregazione e all'inclusione sociale. Accanto al fattore occupazionale, dunque punto di partenza su cui sviluppare l'intero progetto risiede nella riqualificazione del Parco, del Castello e dell'ex carcere. Tutte strutture caratterizzanti per Santa Maria ma che hanno bisogno di un'opera di recupero, di un buon management che si occupi poi anche della promozione dei reperti. Finora l'impegno nei confronti di questi pezzi di storia sono stati rilevanti, spiega Laura Gentile, presidente dell'Associazione Pitagora, e la nostra intenzione è quella di incrementare la fruizione sia da parte dei turisti sia dei cittadini attraverso visite guidate. I tre siti inoltre potrebbero diventare dei veri e propri luoghi dediti alla formazione, ad esempio attraverso corsi all'interno dei due castelli, per non parlare della possibilità di promuovere attività didattiche nel Parco archeologico di Laos, mettendoci in contatto con gli istituti scolastici. Noi, continua Gentile, ci stiamo già impegnando nella promozione con visite guidate e gratuite, ma per proseguire su questo binario abbiamo bisogno di più fondi, in modo da poter operare su più fronti e incrementare l'interesse dei giovani in questo campo, cercando di limitare il fenomeno della fuga dei cervelli. Un progetto dunque che si va ad affiancare al Parco Natura Avventura Archeo, che l'Associazione Mondo Cultura Atena ha ideato per il percorso della fiumerella tra i comuni di Preammare e Tortorea Ieta, un modo per far rivivere la storia di questo antico territorio e per mettere in contatto i più giovani con un mondo che spesso è ancora tutto da scoprire.